Mancano solo due settimane all'inizio della nuova edizione di Amici 2018. Dopo l'annuncio di che approda come supporter, al fianco di Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarra la conduzione del Daytime, arriva una news entry tra i prof di ballo, Timor Stephens. Garrison Rochelle non fa più parte del corpo docenti. Dal 29 ottobre sul canale 31 di Discovery, Amici 2018 riapre i battenti con i casting per la selezione dei talenti che formeranno la classe della scuola dello spettacolo più longeva e seguita della tv. Tra i prof di ballo insieme a Veronica Peparini, Alessandra Celentano arriva un grande ballerino e coreografo conosciuto in tutto il mondo, Timor Stephens, che il pubblico italiano conosce per averlo visto tra i giudici della prima edizione di Dance Dance Dance. Olandese, classe 1987, ha collaborato tra gli altri con artisti del calibro di Madonna, Beyoncé, Whitney Houston, Rihanna, Chris Brown e Michael Jackson ed è stato ingaggiato da Christina Eguilera per film Berlesque. Garrison, storico ballerino e amico di Maria De Filippi non farà parte del corpo docenti classico, ma non è escluso che avrà un ruolo speciale all'interno del programma. Cambio di guardia anche per i prof di canto. Per ora sappiamo che ci saranno Rudy Zerbi, Alex Britti e un terzo componente ancora sconosciuto. Non rivedremo più Carlo Di Francesco, Giussi Ferreri e Paola Turci.